La cima più alta del diventamento del bar. Vi sorgono alcune antenne e alcune installazioni. Questi sono i tornanti ripidi che conducono in vetta. Ampio panorama verso nord, ma oggi è un po' offuscato. Questa è la cima occidentale della Champs e un passo sotto i tornanti il Col de la Champs, 1628 metri. Anche sul nord sud c'è un ampio panorama, ma oggi è tutto piuttosto offuscato. La cima del volo.